Siamo all'apertura dell'Assemblea Sinodale E non ci serve uno sguardo immanente, fatto di strategie umane, calcoli politici o battaglie ideologiche Che se il Sinodo darà questo permesso, dell'altro aprirà questa porta, questo non serve Non siamo qui per portare avanti una riunione parlamentare o un piano di riforme Il Sinodo, cari fratelli e sorelle, non è un Parlamento Il protagonista è lo Spirito Santo No, non siamo qui per fare Parlamento Siamo per camminare insieme con lo sguardo di Gesù Fratelli e sorelle, popolo santo di Dio Dinanzi alle difficoltà, le sfide che ci attendono Lo sguardo benedicente e accogliente di Gesù Ci impedisce di cadere in alcune tentazioni pericolose Di essere una Chiesa rigida Una dogana Che si arma contro il mondo e guarda lì indietro Di essere una Chiesa tiepida Che si arrende alle modi del mondo Di essere una Chiesa stanca Ripregata su se stessa E nessuno conosce il padre Che si arrende alle modi del mondo